E bella tuttavia, sono Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni, oggi siamo qui per l'evento dedicato al Ride Day di Typhlusion di Zui. Quindi in tutte le nostre palestre della nostra città, tra pochissimo, raga, spawneranno questi Ride Livello 3 di Typhlusion di Zui. Debutta anche possibile Shiny, quindi speriamo bene. Nel frattempo, che attendiamo? Perché mancano ancora più o meno 10 minuti, raga, infatti vedete che non ci sono ancora né le Wavos nei Ride. Chiaramente, andiamo, raga, sotto missioni, ecco qua, ci facciamo il timbro giornaliero. Attenzione, dai, 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 ma guai, le Shiny da missione, era quella di schiudere 3 Wavos, mi sembra, raga, 671. Ok, catturato e raddoppiato, abbiamo iniziato, raga, questa giornata alla grandissima, con uno Shiny. Buono, 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 no, è peccato, raga, peccato, 671, bello però, bello, preferiti, sicuramente, cosa c'è in giro? Eh, ma un Dirling, una roba qua di Dirling, volevo mostrarvi, raga, gli ultimi Shiny, ecco qua, mi pare che eravamo rimasti a Grubin. Ho trovato Cotoni e Delibird, guardate qua, che bellezza. Ok, raga, eccolo qua, primo Typhlusion di Zui, appena tirato giù, attenzione, raga, attenzione, si fa tranquillamente da soli, perché è un Ride livello 3. Potevo, raga, ma siamo qua, insieme agli altri, attenzione, 28 secondi, tirarlo giù alla grandissima, 20 tentativi, Shiny Check primo, cos'è? No, normale, appunto, non so come si presenta, 16,86. Et voilà, raddoppiato, 20 caramelle, 2 L anche, molto bene, 16,86 il primo, come si presenta, quasi quasi, raga, ma tentiamo più alto. Raga, attenzione, abbiamo qua un 100% di Togetic, attenzione, perché potrebbe essere Shiny, quindi magari un bello Shundino, eccolo lì, raga, eccolo qui davanti, guardatelo lì. Attenzione, Shiny Check, e ti pareva, ti pareva, 6, 3, 4, punti lotta. Ve lo mostro anche a voi, eccolo qua, raga, appena catturato, valutazione, 100%, che bellezza, poi una volta fatta la sua evoluzione, veramente forte, importante all'interno del game. Attenzione, raga, cosa abbiamo qua, cosa abbiamo, un Roggerola, un Roggerola qui dietro, dai, e dai, anche sto Shiny di Typhlusion non ci vuole uscire, abbiamo iniziato alla grandissima, raga, oggi con parecchi Shiny, morellino, morellino, normale. Vi mostro quelli che ho catturato fino adesso, raga, i Typhlusion che abbiamo effettuato, allora, 1, 2, 3, 4, 5, il più forte è 16,86, dovrebbe essere 16,86, ma Shiny ancora niente. Raga, è una roba impressionante, fino adesso abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raid di Typhlusion, 0 Shiny, time in Ragnocca lì, Shinino, subito, pam, è una roba incredibile, raga. Ma allora, andiamo a vedere qui come sto messo con le missioni, perché quasi quasi, visto che è anche il pezzo Stella e il Fortu Nuovo attivo, qua Fortu Nuovo, molto bene, andiamo a raccimularci il tutto, così saltiamo al quarto step. Vediamo se è già terminato, raga, o cosa, se dobbiamo fare cosi? Eh no, eh no, peccato, no, dobbiamo fare qualcosina, ma qui intanto, 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 cutie fly. Altri inviti ai ride, qua, inviti ai ride, ma non entro, attualmente se mai li faccio dopo su Irlix. Terzo check, terzo check, dopo ti ritrovo un pass, sprizzi, ultimo check, ultimo check, dai, chi è? Carbink, bene, bene, peccato, Carbink, raga, un po' scarsino, un po' scarsino l'avevamo trovato nettamente meglio quando eravamo su a Londra, al GoFest, come siamo messi, quindi qua, mi prendo, raga, raccimulo così saltiamo, al secondo step. Dai, go ride, raga, ci siamo, finalmente, dopo quanti ride, porca miseria, eccolo qui, Typhlusion di Swish Shiny, 16, 61 punti lotta, bellissimo, raga, bellissimo, guardate qua che cacchio di colorazione, andiamo sicuramente con Ananas, visto che rimane dentro, subitissimo, attenzione, attenzione perché con una mano, con una, ottimo, guardate qua, raga, adesso andiamo subito a valutarci perché abbiamo fatto più o meno, cos'è, un 8 ride all'incirca, ho ancora pass gratuiti da utilizzare, però, raga, però, abbiamo raddoppiato 20 tentativi, guardate qua, Tamiro Lagnocco, che ha trovato il primo Shiny, sculatissimo, valutiamo un po', potremmo fare uno scambio. Allora, raga, stiamo per entrare in un altro ride, eccolo qui, ma prima, volevo mostrarvi, guardate qua, allora, innanzitutto lo Shiny che abbiamo trovato insieme, ma, attualmente, il più forte di Typhlusion, 93%, eccolo qua, 16, 97 punti lotta, speriamo, raga, chiaramente, di trovarne uno nettamente più forte, magari, anche cromatico, non sarebbe male, porca miseriaccia. Entriamo anche qua, ride palestra gialla, e dai, ah, comunque, mi sono appena accorto che ho terminato, raga, adesso i pass ride, quelli gratuiti che avevamo oggi, anche Oscar che mi ha regalato il biglietto dedicato all'evento del ride dei grazie mille, bomberone, tutti terminati, ne avevamo cos'era, raga, più o meno un 15, 16, forse anche 17, che li avevamo contati, lì, vabbè, mi sono già scordato quanti erano i totali. Attenzione, mettiamo pronto, se no qua mi linciano. Attenzione, Schiusa Wavos, due chilometri, non è che mi aspetto, raga, grandi cose, ma, magari, qualcosa dell'eventuccio, non si sono mai, togepi, togepi, abbiamo trovato prima il 115, va benissimo, raga, così, vediamo un altro 100, magari, sarebbe stato apprezzato cosa abbiamo qua, attenzione, Dedennino, Dedennino, che lo Shiny è bellissimo, ma anche Zwirlix, che l'avevano trovato 98%, addirittura, raga, strascolato. Qui che abbiamo? Qui che abbiamo, Volpix di Alola, magari ci porta fortuna, raga, andiamo a effettuare la mega evoluzione di Garchomp, eccolo qua, il nostro Shundo, tac, guardate che bellino, raga, veramente una colorazione pazzesca, lo vediamo adesso, boom, forza della natura, guardatelo qua, raga, Shiny, 100% Garchomp, bellissimo, speriamo che, appunto, ci porti fortuna, due ride, attenzione, raga, abbiamo anche tantissimi Shiny, c'è qui in giro, ma concentriamoci su Typhlusion. Olè, ragazzuoli, guardatelo qua, another Shiny, boom, Typhlusion, bellissimo, 16,92, addirittura, 16,92, questo qua, abbastanza forte, raga, abbastanza forte, sono curiosissimo di vedere la sua valutazione, perché... Attenzione, attenzione, abbastanza forte, ho la mano congelata, raga, faccio dei tiri da schifo, poi con una mano, il 100% dovrebbe essere, 17, 10, punti lotta, un mio amico qua, infatti, ha trovato il 96%, attenzione, ragazzuoli, 21,3, molto bene, che abbiamo raddoppiato, 16, 92, mettiamo in subito tre preferiti, valutazione, raga, valutazione, cos'è, 98, 91, 91, forse, 16, 92, dai, per il momento, raga, è il nostro più forte, che bellezza. Allenatori, attenzione, schiusa huevos, tre uova da 5 km, abbiamo appena fatto una pausetta al McDonald's, raga, dove mi ha invitato Oscar e adesso vi mostrerò cose pazzesche, attenzione, tre huevos qua, tre huevos, andiamo veloci, andiamo veloci, perché... Mime Junior, Mime Junior, tanta roba, dai, 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 poi, però un bel 100, sarebbe apprezzatissimo da qua, non so, ancora lui, se ho pezzo stelle e fortuno va attivo, raga, non penso che sono ancora attivi da prima, perché ci siamo fermati una mezz'oretta a mangiare, a mangiare, è schifo, tutto uno schifo, Qua, attenzione, cutie, cutie fly, intanto è anche buio qua all'interno del game, vediamo The Den, non è shiny, ma attenzione, raga, adesso vado a mostrarvi appunto, guardate qui, porca di quella miseriaccia, ma io farei direttamente così, attenzione. Attenzione, adesso andrò a fare ancora l'ultimo ride, ragazzoli, ma attualmente, guardate qua, quattro Typhlusion di sui, shiny, bellissimi, abbiamo iniziato appunto con questo, no, li vediamo dopo, li vediamo dopo, però questo qua, ragazzoli, quello di Oscar, vediamo, infatti qua, pavia come posizione, grazie mille, bomberone Oscar, Uh, non l'ho messo, infatti, tra i preferiti, assolutamente qua, 16,88 il suo, e vi mostro la valutazione, guardate qua, 15 in attacco. E allora eccoci qua, bomberoni sotto la palestra, più o meno sotto la palestra, entriamo, dovrebbe prendere, sì, 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 siamo vicini, eccolo qua, l'ultimo Typhlusion di sui, che effettueremo oggi, ragazzoli, 5 minuti, quindi entriamo immediatamente, ho fatto fuori tutti i pass, vedete che infatti sono quelli verdi. Adesso provo a invitare il bomberone Oscar, e attenzione, ultimo shiny check. Et voilà, eccolo qua, raga, appena tirato giù, ah, la grandissima, anche in due, comunque sì, si effettua anche da soli, raga, abbiamo visto questo ride, appunto, come dico, ripeto, ride livello 3, facilissimi, facilissimi, qua, intanto ricompense, ricompense varie, molto bene, fortunato il petto stella, appunto, già scaduti, purtroppo, attenzione, ragazzoli, ultimo shiny check di Typhlusion di sui, dai, 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 un bel 100, un bello sciundo, non lo so, dai, 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 No, normalissimo, 16, 72, infatti anche nel game, ormai è notte. Raga, non è vero, non è vero, ultimo ride appena effettuato, quindi ultimissimo, dai, shiny check, Typhlusion, sei, tutto sei, tutto sei, è maledetto. Et voilà, evento appena terminato, ragazzoli, qua è buissimo, ammazza, che clima. Infatti se andiamo a vedere, ad esempio, su ride, cosa sto facendo, ride, stanno per terminare, e anche qua sotto dovrebbe essere, poi ce lo prenderemo, ragazzoli, ma qua, terminato, terminato, abbiamo solamente quello al 22, esattamente, eccolo qua, che abbiamo ancora dei bonus attivi, eccetera, ma sono curioso, raga, sono curioso, andiamo, quindi, a vedere i nostri Typhlusion. Allora, c'è da dire che comunque sia il 100, raga, eccolo qua, a parte che il Cutiefly qua, non so se ve l'avevo mostrato, raga, Cutiefly 100%, dopo il Gengar che abbiamo ottenuto l'altro giorno, oggi addirittura anche Togetic, eccolo qua, tanta robetta, avrei preferito di gran lunga, chiaramente, Typhlusion, e oramai non l'abbiamo trovato, ma sinceramente, raga, off cover, adesso io magari, qualche invito, andrò a fare altri ride di Typhlusion, a tentare la caccia al 100, altri Shiny, o addirittura, appunto, allo Shundo, perché no? Allora, sono curioso, vediamo un attimino, raga, 3 e asterisco, praticamente, quelli sopra l'80% che abbiamo trovato oggi, eccoli, poni, lì sopra, che schifezza, gli Shiny ci sono, gli Shiny ci sono, ma sono tantissimi, raga, ammazza. Allora, proviamo a metterli così, e infatti qua ci sono anche gli altri Typhlusion, raga, ma questo qua, lo Shiny, attenzione, 20,99, a quello che abbiamo trovato, questo qua ero al Mac prima, raga, non so, appunto, se l'avevo ripreso, se ho fatto la registrazione del gameplay, appunto, eravamo lì al Mac, raga, mi ha invitato questo allenatore, grazie mille, bomberone, Shiny dalla Sicilia, da Siracusa, guardate qua, che bellezza, 20,99, che è il mio più forte, raga, dopo abbiamo trovato il 93%, eccolo qua, 16,97, bellissimo, peccato che, appunto, non era, ah, ma quello sopra è bustato, ecco, perché ha così tanti punti lotta, raga, ma guardateli, Shiny, Shiny, c'è da dire che, però, gli Shiny, raga, alcuni di quelli che abbiamo trovato, sono qua sopra, quindi sono quelli messi abbastanza bene, a parte il Typhlusion, questo qua, 93%, raga, penso che di più forti non ne ho trovati, perché ormai i punti lotta dopo vanno in basso, ma facendo filtro età zero e cromatici, guardate qua, cosa abbiamo trovato oggi, raga, questi qua sono tutti gli Shiny di oggi, abbiamo iniziato alla grandissima, abbiamo visto prima con Mawile Shiny, ottimo, ragazzi, oggi poteva sicuramente uscire di meglio, ma magari farò uno scambio a specchio anche con Typhlusion, perché un bel 100% Shundo, raga, magari anche sarebbe apprezzatissimo, quindi con un qualche mio amico allenatore andrò a fare prossimamente un bello scambio fortunato a specchio, però tutto sommato, raga, sono molto soddisfatto, oggi 5 Shiny, tra cui un Mawile, ce li siamo portati a casa. Bomberoni, e voi avete partecipato alla giornata di Ride Day dedicata a Typhlusion di Zui? Com'è andata? Avete sculato? Avete registrato lo Shiny? O forse addirittura anche un bel 100%, ditemi un po' sotto nei box commenti che sono molto curioso, e per oggi, raga, da Gamergio è veramente tutto. E mi raccomando, iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati, e se il video, raga, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamergio vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers!